e ragazzi oggi giocheremo a minecraft e cambieremo la mia skin basta scherzavo dai facciamo anche delle altre avventure e delle altre future allora innanzitutto cambiamo il profilo beh la faccia non ne voglio di mettere modifica personaggi personaggio vuoi mettere la skin di Erwin la skin di Erwin con no non ve lo dico ci vediamo lì ok ragazzi guardate la skin di Erwin con la maglietta di Sonic dovete un po' farla ok ragazzi adesso andiamo a fare una bella e bellissima avventura mmm Big Vanilla oppure no mmm ci devo pensare mmm vediamo no facciamo 0 amici quanti mondi? 50 mondi addirittura allora creiamo una nuova addirittura devo cancellare qualcuno che non mi piace perché sono troppi vabbè comunque non occupa troppo spazio non fa bagare tutto non è una cosa difficoltà? mmm mmm difficile ovviamente io morirò ma questa è la vita il nome del mondo come lo chiamano il titolo? mmm un'avventura è un'avventura nel mondo è un'avventura nuova in un'avventura in un'avventura in un mondo 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 non ti doi ti metterò no mondo 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 un'avventura un'avventura un mondo ah un'avventura in un mondo difficile infinito molti tipi di mondo infinito va bene mmm quattro opzioni ragione carne e scolle carne e scolle vabbè comunque facciamo così pacchetti di sussina e multigiocatore no? e vai ci voglio un po' a creare e quindi metto pausa ci vediamo dopo ok ragazzi si sta caricando aspettiamo qualche secondo e si parte subito guarda subito perfetto si si ho sento quello vediamo si ok e allora ok esco in basso come vedete diciamo allora normale semplice secondo me basta non ci sono abbi c'è una caverna meglio di così ci sono tante poste ovviamente difficile significa anche che siamo in un mondo che ci sono tante caverne nelle caverne ci sono più mostri quindi vi devo fare cosa? c'è un villaggio non ci credo però c'è la in modalità difficile ancora più forte secondo me in modalità difficile se mi avvicino cerca di uccidermi secondo me ci provo non puoi fare tanto ma secondo me no c'è non così tanto così sarebbe anche un po' troppo vedi guarda no mi avvicino no scappa scappa solo no aspetta se prendo qua ok no perché ho paura sempre vola vai mi uccide ah va bene quindi dai attenzione e vai passa pochissimo perché faccio qui vabbè comunque prendo dei letti e vai ecco se non mi dava niente significa che secondo me era successo qualcosa oppure sarebbe soltanto in modo cioè non avevo visto niente eravamo ti prego ti prego dimmi che c'è qualcosa più utile ma dai ti prego ma nelle schifesse ci sono grazie ma mi servono a niente vabbè comunque le mangio va bene mi prendo anche una cassa va bene un letto mi basta tanto non andiamo comunque ragazzi mettete un like allora allora dobbiamo ovviamente costruire una nostra casa baby baby quindi dobbiamo prendere tanta compless questo uh mi prendo dei barili c'è qualcosa no ma dai ma non c'è niente nei barili non c'è mai ma proprio mai niente nei barili nei barili non c'è mai niente ma se c'è qualcosa è raro se c'è qualcosa significa che è un po' c'è una qualcosa di molto raro che è raro però è difficile io non me lo prendo perché è una cassa cioè non prendo poi troppa roba dal villaggio quindi dovrebbe bastare ma l'anno un po' troppo lo so però faccia bene uh c'è qualcosa torce mi hai dimenticato grazie graziemente senza di te non sapevo di fare ma va ma questa cosa c'è ma va bene avevo visto lei mi sembrava che era notte avevo visto non era bene c'era tutta nera pensavo che era notte c'era notte e alla fine io dicevo oh moriamo ma va bene eh menno un po' di legno quanto è dura la vita dopo il secondo sembra tutto un po' più facile però non prendo tanto perché dopo devo fare una bella casa te lo avevo vai e tre credo quattro ma dai ma perché tutta la roba che serve da qua questo è il prossimo questo è questo 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 poi questo poi spada mi serve comunque questo poi si va a fare questo questo poi questo poi questo poi questo poi questo cosa ho fatto un po' è abbagliato vabbè vabbè tanto io c'è il cibo vabbè comunque non mi serve lascia posso parlare mi serve mi serve mi serve tanto non mi serve lascia così invece no mi serve perfettamente così dopo prendi tutta la legna ti fai tutto in poco anche le torce madonna è mia non vedo l'ora di fare la mia casa sarà piccolina ma accogliente prendiamo anche le botole ma perché guarda quel punto ma dai che paura però che volevo che paura prendiamo anche una porta guardi col piccone no stavo scherzando solo un catino è uno scherzo grazie per la porta vabbè qua c'è tutta la roba che è un devo prendere dell'altro ovviamente perché in effetti no devo prendere anche questa roba devo prendere anche tanto cibo perché guarda 15 addirittura cosa posso cosa come me non posso una canola pesca giusto vabbè ma che cavolo stavo facendo vabbè si può sbagliare nella vabbè si può sbagliare nella vina cosa stavo cosa stavo dicendo cosa stavo dicendo vieni 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 dai vieni vieni da papaino vieni da papaino oh oh mi ci devo un tridente molto facile mi ha dato mi ha dato mi ha dato un tridente non ci credo scusate ragazzi è mio padre mi presenta mio padre però è quasi un tridente però è quasi però è stata una fortuna incredibile mi presenta mio padre guarda ci credo un tridente posso uccidere tutti eh ciao vuoi lupi no perché non avete niente cosa è successo no non ha preso qualcosa tu grazie questo è una porta ciao allora comunque mi fateci caso ancora allora bisogna uccidere la lion golem posso oh ma devo farmi anche questo e vai c'è anche mia mamma che è appena arrivata wow 18 ne ho 18 ma non basta ne uso un po' però dopo ne devo prendere un bel po' dove sei l'aeron golem voglio uccidermi però con quattro blocchi quattro hai capito eh quattro dove cavolo sei dove sei l'aeron golem l'aeron golem ok allora cosa ho visto lì sembrava una porta vabbè non fateci caso l'aeron golem l'aeron golem l'aeron golem l'aeron golem le cose si fanno serie tante miele non mi servono ben niente che so però le posso mangiare però ce ne sono troppo vabbè tanto io posso usare posso creare uccidere il golem facilmente meglio non dirlo vabbè l'aeron golem non sai che non mi può uccidere c'è un tante l'uccido con l'asce mi guardo quanti mi hanno dati fortuna 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 vado ciao non ci avevo altro caso no ti prego non mi uccidere non mi uccidere non mi uccidere no non mi uccidere vai devo riuscire a combattere ma con questi come posso fare dei strani devo fare una scada oh dei gambari cos'è oh cos'è oh oh almeno un tridente intanto qua non le possono distruggere quindi che diavolo di umore è io ho paura io ho paura io ho scapperei però ho proposto una che ho letto sono sempre fuori voglio devo la mestra posso dire io posso due mie peccato che non posso farlo ma vabbè allora c'ho un po' di legno ovviamente non posso farlo non c'è un altro prima quanti tanti allora andiamo volevo vedere quanti lecce avevo lecce vai vai lilla lolol lelele eh mostri non siete più cattivi come primo non credo credi di uccidere quello sei più stupido ciao non mi danno niente ma sei cattivo molto non mi serve però se avevi bisogno di un letto questa volta c'è fortuna c'è fortuna per te ciao maiale dove sei guarda fatti prendere ok quello non mi serve perché è troppo cibo ah che fortuna per oggi per gli animali devo uccidere tutto molto più facile e un colpo di pene vabbè uno volpino cosa la voglio uccidere sta scherzando ti lascio libero tanto tu non hai niente se aveva uno smerardo ovviamente però fortuna oggi è la fortuna degli animali oggi è il giorno degli animali secondo me qua dove si ci è entrato o no non so come mai forse perché l'avrò entrato qua ce l'ho dormito no ci sono entrato però bello ok ancora 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 mi bisogna di anche oh no no adesso non più ciao ciao mi penso io non me lo voglio prendere vabbè io vabbè adesso sta cadendo il tempo ok facciamoci una bella casetta di bella mia partita io vedo sempre qua 8 e quanti ne ho? figo però me ne serve di più 7 7 7 un ago di cielo lo fa una tappola piano vabbè vabbè comunque intanto io inizio a costruire una bella casetta proprio là là ti prego percola lascia mi stanno mi staccia una giornata dura percola una solo una solo così proprio un momento giusto guarda lo faccio no questo se mi uccidevo già mangiato ce l'ho ovviamente no quindi grazie adesso non sto usando lascia vabbè vai e va allora se dobbiamo prendere un po' dell'altra per fare prima perché mi uso il piccino una bella così faccio molto faccio così 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 e posso farmi un'altra un po' troppo un po' troppo un po' troppo lo devo dire un po' troppo 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 sette sette luce non va qua ok credo che basterebbe che basterà è lì la mia casetta sì oh dai non è male bellina vero un po' troppo 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 guarda qua grazie per favore non mi viene guarda e basta cosa non lo scherzo mi mancava poco così mi mancava poco così di prendere una bella cosa Mi mancava pochissimo Ok, va bene così e basta Ovviamente Ok, allora Prendiamo la crafting table Facciamo la nostra casa e la nostra avventura è finita Prendo tantissimo Non sapevo C'è già una poda, c'è già tutto Quindi dovrei fare tutto Sì Prendo Tanto in tanto mi prendo anche questo Credo No, non posso lo farlo Perché non mi ho ancora fatto la spada Almeno avrò dell'altro ferro No, no, vabbè E vai Il tetto ovviamente non lo facciamo Ciao Che non ho voglia No, va bene Va bene Mettiamo dentro qua Mettiamo dentro Questa, lascia, casa, casa Casa, 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 casa Tutto Diventiamo Vediamo cosa posso fare Ce l'avevo allora, eh Ce l'avevo Cosa posso fare Tanto mi faccio Bene Così dopo non ho più roba Meglio Ah, perché non lo sto dando Lascia Vabbè Il cerco della vita E vai Letto Metti qua Qua Intende Qua Ok Perfetto Poi Una porta Perché non ho fatto un buco Vabbè Il cibo Ovviamente Bisogna mettere il cibo Ovviamente Il bastone Non mi serve Niente Vabbè Il cibo Qua dentro Sempre nella cassa Sempre nella cassa Poi Adesso Abbiamo finito Credo Allora ragazzi Mettiamo la porta E le luci Poi abbiamo finito Allora Qua E qua Un po' bruttino Ma l'importante È che abbiamo fatto Una bella Una casetta Non è la La bellezza L'importanza Parole sagge Parole sagge Di andare Proprio alla notte Perfetto Proprio quando c'è La notte Perfetto Guarda Faccio così Metto questo dentro Guarda che tutto Sia alla Perfezione Anche questi E Metto qua Metto qua Metto qua Metto tutto dentro Tutto 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 E Ragazzi Mettete un like Iscrivetevi E Ciao Ciao